Applausi Martirizzato 2 marzo scorso che faceva ministro federale per le minoranze del Pakistan e dopo aver scelto di seguire la sua opera vi parlerò di alcune mie riflessioni riguardo la sua testimonianza prima vorrei cenare brevemente quanto riguarda la realtà del Pakistan solo due parole Pakistan è un paese con maggioranza musulmana che è venuta in indipendenza 14 agosto 1947 fin tale momento faceva parte di India più di 180 milioni di abitanti diventa secondo paese popoloso musulmano dopo l'Indonesia qui il 90% della popolazione è musulmana 5% sono di altre religioni di qui il 2% sono cristiani 2% hindu e il resto 1% includono Sikh buddhisti, ebrei e ahmedin e varie religioni la ragione di formazione di questo paese dal Pakistan è stata solo la religione perché i musulmani volevano un paese separato dall'India perciò già dal partenza Pakistan aveva un concetto religioso molto forte dopo successive guerre con India sulla causa di Kashmir l'invasione sovietica in Afghanistan poi l'ultima invasione o guerra in Afghanistan per terroristi ha peggiorato le cose in Pakistan creando una società piena di fanatismo, estremismo, fondamentalismo e anche dei gruppi terroristici il Shavas, mio fratello minore ha dato la testimonianza in questo paese con una forte fede cristiana sua vita fin dall'inizio era un esempio di buono cristiano lui già da 13 anni continuava a seguire tutti gli riti cristiani cattolici e mettere anche in pratica noi cinque fratelli siamo cresciuti in una famiglia cattolica con un insegnamento cattolico molto forte Shavas era uno di noi che l'ha seguito molto di più specialmente quanto riguardava la sua vita pratica e lì è stato molto vicino ai cristiani che sono parte più debole e più povera del Pakistan già età di 18-17 anni e li cominciò a lottare per quanto riguarda diritti di base mi ricordo la sua lotta cominciò quando estremisti o fondamentalisti in Pakistan volevano creare una carta di identità diversa per i cristiani in Pakistan e lì non lo accetto perché diceva che non dovrebbe essere nessuna discriminazione su base religiosa tra un uomo e l'altro pur avendo una età molto giovane e li ha combattuto e infine si è riuscito anche a bloccare questa proposta di legge che era fatta dal governo pakistano ulteriormente e li ha combattuto contro la dittatura contro governi militari che sono stati per lungo al governo in Pakistan sempre sia per difesa dei cristiani che dei più deboli lui non ha mai negoziato non ha mai nascosto sulla fede cristiana finché si è alleato in 2002 con l'attuale governo del partito popolare pakistano di chi capo faceva bene Zir che è stata assassinata anche lei qualche anno fa che condividevano quanto riguardava i comuni valori umani e lui ha ottenuto molto quanto riguarda i cristiani e per i loro diritti di base e finché lottando per questo lui ha voluto proteggere la sia bibi la causa di cui sappiamo tutti quanti legge di blasfemia in Pakistan che è stata applicata molte volte su vari cristiani era un punto importante per la battaglia di Shabazz e quando fu a sia bibi condannata lui ha tentato di tutto perché venne assolta da questa legge qua di questa condanna infine ha convinto anche il governo di Punjab che era un musulmano credente e una persona molto influente che infine è stata vittima di terrorismo e di fondamentalismo che è stato ucciso da guardia di corpo da stesso io a quel momento che ero in Pakistan quando ho visto che è stato ucciso questo governatore come amore fraterno io ero molto preoccupato che qualcosa possa succedere a lui e tantissimi in governo incluso ai politici grandi erano terrorizzati di esprimere la loro vicinanza al governo che è stato assassinato perché avevano paura di estremisti mio fratello dopo la sua morte immediatamente si è andato a fare la conferenza stampa ha condannato pubblicamente ha celebrato una messa in pubblico l'ha detto che lui non ha paura lui questa condannerebbe a qualsiasi momento a qualsiasi punto perché questo non è giusto lo stesso momento giorno dopo cominci di cercare le minacce di morte da varie parti allora io lo consiglierei di lasciare il paese per stare qualche mese fuori dal paese per evitare eventuale diciamo situazione pericolosa lui non l'ho accettato lui ha detto non posso abbandonare la mia gente perché se l'abbandono praticamente mia testimonianza per Gesù Cristo sarebbe diciamo insignificativa durante questa sua lotta lui ha lasciato una testimonianza spirituale che vorrei leggere tanti di voi sapranno ma tengo opportuno che venga ripetuta qui lui scrive mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia ma io ho sempre rifiutato persino a rischiare della mia stessa vita la mia risposta è sempre stata la stessa no io voglio servire Gesù da uomo comune questa divosione mi rende felice non voglio popolarità non voglio posizione di potere voglio solo un posto ai piedi di Gesù voglio che la mia vita e il mio carattere le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo tale desiderio è così forte in me che mi considererai privilegiato qualora in questo mio sforzo e in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi e poveri e cristiani perseguitati dal Pakistan Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire non provo alcuna paura in questo paese molte volte gli estremisti hanno cercato di uccidermi di imprigionarmi mi hanno minacciato perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia gli estremisti qualche anno fa hanno persino chiesto ai miei genitori a mia madre e mio padre di desudarmi dal continuare la mia missione e nell'aiuto dei cristiani e dei bisognosi altrimenti mi avrebbero perso ma mio padre mi ha sempre incoraggiato io dico che finché avrò vita fino all'ultimo respiro continuerò a servire Gesù questa povera gente sofferente umanità i cristiani i bisognosi e i più poveri voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e nella vita di Gesù Cristo più leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento i versetti della Bibbia e la Parola del Signore e più si rinsaldano la mia forza e la mia determinazione quando rifletto sul fatto che Gesù Cristo ha sacrificato tutto che Dio ha mandato il suo stesso Figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza mi chiedo come posso io seguire il cammino del Calvario il nostro Signore ha detto vieni con me prendi la tua croce e seguimi i passi che più amo della Bibbia recitano ho avuto fame mi avete dato da mangiare io ho avuto sete mi avete dato da bere ero forestiero e mi avete ospitato nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato carcerato e siete venuti a trovarmi così quando vedo gente povera e bisognosa penso che sotto loro sembianze sia Gesù di aiuto insieme ai miei colleghi di portare l'assistenza ai bisognosi questo è quanto riguarda la testimonianza di Shabbat che ha messo anche in pratica quello che l'ha detto credo che il rischio della propria vita può essere un problema reale in Pakistan come accaduto a mio fratello purtroppo dimostra quando si difendono con le parole di Vangelo le minoranze religiose e i cristiani perseguitati a dei poveri ma da noi la testimonianza diventa una scelta vera che porta a darsi agli altri senza altra ragione se non la propria fede non dobbiamo avere bisogno del sacrificio dei martiri per comprendere la via della pace perché essa deve stare scritta nel cuore di ciascino di noi per questo dopo l'assassinio di Shabbat mi sono trovato a dover scegliere come continuare la sua missione la mia decisione la mia decisione che ha portato ad un cambiamento totale della mia vita familiare e professionale è stata basata su un duplice convinzione non si può rinunciare alla battaglia contro le violenze verso i più deboli è necessario che la voce di Shabbat continui ad essere sentita la mia opera politica è rivolta a tutti ai più poveri senza distinzione religiosa ad etnica agli appartenenti tutte le minoranze religiose ai cristiani limitati nella loro libertà religiosa e spesso perseguitati per la loro fede in Gesù oggi invece nella nostra società qualcuno giustifica la violenza contro un popolo tra le nazioni diverse richiamando a Dio mai per ora le religioni possono diventare vecchio di odio mai invocando il nome di Dio si può arrivare a giustificare il male e la violenza mai si può uccidere un uomo in nome di Dio al contrario le religioni possono essere preziose risorse per un futuro diverso che possa anche attraverso i mille piccoli atti della vita quotidiana di tutte le persone sempre di più da credente in Cristo sono convinto che non è impossibile giungere alla pace soltanto con la via di sicurezza per la pace si deve rischiare con temerità personale con tutta la vita di Shabbat si insegna sino al giorno dal suo agguato terroristico pace significa quindi affidarsi totalmente al comando di Dio nella fede e nell'obbedienza cioè porre in mano a Dio onnipotente la storia dei popoli Shabbat sapeva di dover testimoniare con la sua vita l'amore di Cristo per gli uomini avendo deciso di aderire con la fedeltà all'invito evangelico sono convinto che ad essere buoni cristiani significa essere anche buoni politici ad essere cristiani è il motivo per vivere con più responsabilità l'impegno politico nella convinzione che le persone che fanno politica devono sapere che la politica ti fa perdere denaro tempo per se stessi sicurezza personale certezza del fatturo e persino incolumità ho capito che impegnarsi per diritti delle minoranze in Pakistan non significa lavorare per il fine esclusivo di una battaglia politica di parte ma questo è modo per costruire un ponte verso la pace con tutti e per una richiesta di giustizia per tutti la Europa e l'Italia in particolare possono dare un contributo all'evoluzione della politica pakistana nell'affermare una idea di dialogo tra culture e religioni diverse se si sceglie un rapporto rispettoso dalle varie tradizioni, eccessione, compatibilità, suscettibilità, prospettive è necessario evitare di pensare di poter portare dall'Occidente all'Oriente ma una soluzione indiscutibile non è vero che l'Islam sia legato alla violenza non è vero che la società pakistana non possa, pur tra mille difficoltà, volvere verso standard di maggior sicurezza e giustizia tutta la vita di Shabazz attesa proprio questa sua feducia nel valore della buona politica dei credenti impegnati nell'istituzione, nella società, nella Chiesa per questo egli ha detto possiamo essere nella pace e nella giustizia unica famiglia e glorificare il nome di Dio grazie